gemelli qualcosa di davvero strano è nell'aria in questo momento relativamente alla vostra vita professionale un'aria di nobiltà un qualcosa che vi rende davvero unici speciali agli occhi degli altri sembra che stiate acquisendo un magnetismo personale che non avevate prima e questo magnetismo continua a crescere in realtà questo porta anche sul mondo del lavoro a far evolvere le vostre relazioni a un nuovo livello quindi il consiglio è semplicemente quello di confidare nel vostro intuito di prendervi cura di voi stessi e anche degli altri perché professionalmente qualcuno potrebbe proprio giovare del vostro aiuto e dei vostri consigli